Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Final Fantasy VII Remake Sentai Intergrade Perché da quello che ho capito questo Intergrade è una missione a parte Ok, abbiamo sconfitto tutti quanti al torneo, al Fight Club Abbiamo fatto il milione di kill che voleva quest'altra Adesso dobbiamo andare da Madame M E dobbiamo farci dare il vestito a Eric per andare da Don Adesso ve lo dico subito Don Corneo You're here What? All right then, let's get started Beauty takes a lot of work and preparation Far more than you'd know In the meantime, let me see, let me think There ought to be things you can only do without your friend Now's your chance to get out and have some fun I can tell you're already beginning to feel at home here Though being so new to it, I assumed you still wouldn't know how to enjoy yourself properly So I went and had a chat with Sam He said he'd be happy to help you out Hey, no one asked you to do that But there's so much you don't know This is the perfect opportunity for you to learn the ways of the world and man the hell up And that's enough of that Eric, come with me Oh boy, I can't wait to see the dress The dress is part of it, sure But we'll also need to do something about that plain Jane make-up and hairdo This is gonna take some work Ouch Well, I'll see you later, Cloud Peek and I'll poke out your eyes So what do we have to do? A testa solitary Do we have to go out and see A perdere tempo A perdere tempo Vai da Sam Questo ci dà qualche incarico, forse Madame M said you'd be swinging by Let me see if I've got this straight You ditched your lady friend and fellow champion To have a boys' night out in Wall Market Ugh Kidding If I know the madam And I do This was all her idea I can see why There's no denying you're skilled with a sword And when it comes to damn near anything else Well, can't help but have my doubts Ain't nothing wrong with that But then there's nothing wrong with expanding your horizons neither Seeking new experiences Knowing the ways of this here world will help you to better protect her while you're in it Reckon I got a few solid gigs for you What do you say? You game? Huh Yeah Why not That's the spirit You have yourself a grand time tonight, Mr. Mark Una lista di SEM Foglio in cui SEM hanno dato gli incarichi da fidarti come tutto fare Vedi se lo dovevamo fare in incarichi alla fine La febbre dei piegamenti, la lunga notte Qui ce ne sono solamente tre Eh Allora li facciamo tutti a tre Oh, almeno ci proviamo Welcome Anything in particular you're looking for? Oh You must be the merc I've been hearing about I need you to help me out with my dad His drunk ass has been at the bar for hours now Could you bring him back here? He's probably three sheets in over at drunkards Just over there Chissà se adesso che siamo diventati famosi Ci fanno, questa è la panestra Ci fanno entrare dentro i vicoli Sì, sì Sam caught me up on everything He said you're gonna go rescue Tifa And to do that you're trying to learn all about Walmart Bro, I know this town like the back of my hand So I can answer all your questions Now, let's go knock this one out The bar is this way, Cloud Drunkards, here we come Uh, are we even allowed to walk through the door? I'm getting out of it It's mostly the same folks every night, so Whoa, you can't just walk in there uninvited Listen, there are rules for this kind of... Ok, facciamo prima a questo Huh? Son, is that you? Did you always look so... Moronic? Well, right back at you Yeah, whatever Questa era quella la corte che ci volevano... No, questa era lunga la storia Quell'altro dei piegamenti Cioè, non solamente due parti Life is ruined, it's over Kill me now Come on, there's no need to talk like that, old dude I'll help you out with whatever you need Really? Oh, thank you, son See, I made this bet with the Materia merchant A sure thing But then I lost And so I had no choice but to steal my heart and surrender my precious inspiration Your precious... who with the what now? Inspiration! Heh Without it, there's simply no point in me ever going back... Eppure forse dopo che finiamo gli incarichi Ci fanno passare perché... Ci rispettano Ok Parliamo un'altra volta con questo, vediamo che dice Non dice niente Allora Dobbiamo andare da questo e delle materie Un vicolo sicuramente era questo Andiamo prima in palestra Genem Se hai tempo per spazare, come un po' di divertimento? Vuoi provare a prendere uno dei nostri ragazzi? Tch, non sei seriore, tu? Guarda loro! Cosa di 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 loro! Non, non... Non ci saranno questo Per il suo massaggio di muscle Cosa di loro, Cloud? Se vuoi darei una volta, Dei me sapere Ok Quindi Tu stai per una round? Terminazione! Ok Ok Tu stai per me Mi prendere? Ti sembravo che ci sono di fresco Ii errati dal sole Non ho capito che ci sono Orata Che cosa stai per andare, premi con tempismo per fare più picamenti dell'avversario perché in caso di pareggio la vittoria è stata sua dopo qualche sequenza l'aiuto visivo scomparirei e dovrai fare attenzione a mantenere il ritmo ok se premi l'anticipo in ritardo perderai l'equilibrio se invece fai più picamenti in sequenza il ritmo aumenterà mantenendo il ritmo conserverai le energie e ti stancherai di meno quando l'avversario è particolarmente forte e la fatica si fa sentire dovrai vincere la premendo velocemente per impedire per riempirne l'indicatore ok proviamo ok 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 non ho capito la difficoltà di questa cosa ok 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 O forse sono un tremolo? Questa è la gara per esperti, vai. E qual è l'esperto? Ok, zanto. Questa è la gara. Ah, forse devo prendere velocemente. Questa è la gara. Questa è la gara. Ah, l'abbiamo fatto, no? L'abbiamo fatto, vero? Nooo! Niente per me. Però per poco. E' una cintura master. Questa è la gara. Oh shit Ah Oh vai You are in the zone I believe in you Oh man Who's gonna win this one Oh yeah You're better than my thought Poetry in motion Ma no Che cagato che ho fatto Perché si ripigliate a cagolo La velocità vedete Adesso lui ci sta distruggendo You are in the zone I believe Slow and steady One Two One Two Can't take the pressure No Non si può Aspetta Abbandona Rifacciamo ragazzi Abbiamo presa Troppo male Abbiamo sbagliato Tre volte È il motivo perché Eravamo preoccupati Bisogna concentrarsi Vai Ok Let's have some fun One Two Three Four Five Five Yeah You are in the zone You're better than I thought Whoa I believe Yeah Jules Show that sissy how it's done Who'da thought it'd be this close So much training Do you do How much training do you do Poetry in motion I can't get enough of those beautiful muscles You're better than I thought Whoa I believe in you Poetry in motion How much training do you do Oh man Who's gonna win this one You are in the zone I believe in you Slow and steady One Two You can do it Jules We're rooting for you You're in You Who'da thought it'd be I believe in you I can hear your muscles crying out Enjoy your pain You Who'da thought it'd be You can do it Jules We're rooting for you You're in I believe in you Yeah Jules Show that sissy how it's done You're better than I Who'da thought it'd be You're so much training You are in I can't get enough Nooo Nooo Ah Dovrebbe aver vinto lo stesso Yeah Yeah Was never in doubt Mamma mia però eh You have no idea How strong you really were You truly are something Aren't you Listen up everyone We can be stronger Better Let's hit those weights You got it Jules Ok Questo qua l'abbiamo Ma questo è impossibile Che Let's you and me Work up a sweat No 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 Ok Solamente Equipaggiamento In materie Qual era Cintura master Aumenta Quando mi cintura master È meglio Poi ricordiamoci Magari la diamo a qualcun altro Ah e poi vediamo un'altra cosa Ma La nostra spada Maestria dice Dobbiamo usare un altro po' di volte Quell'abilità Per farcela prendere Andiamo avanti Teoricamente Dobbiamo andare là Invece arriviamo un attimo qua Andiamo dentro al vicolo Vediamo se ci fanno entrare Quindi Sinistra Destra E poi dopo vediamo Perché non ce lo ricorderemo mai Per la strada Qua E poi dentro al vicolo a destra Chissà se ci fanno passare Non ci fanno passare Però secondo me Dopo che abbiamo finito Con Don Cazzo Come si chiama lui Ci fa passare Perché c'era un dialogo Che diceva qualche cosa Che adesso non ricordo bene Spero che non facciano tosta A sfidare I tizi di Don Come si chiama lui Ok Andiamo per di qua Non so nemmeno Non so come le persone Usano Materia Ehi Aspetta per me Quindi Questo è tutto E che cosa ti chiede Ehm Ehm Sono qui per la Preciosa Inspirazione Che hai Dio L'ultimo 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 Inspirazione? Oh L'ultimo Ma non Non so nemmeno Ma non so nemmeno Ma non so nemmeno E' 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 Cosa Che neanche Stratore Di casa E' Che fai Che cosa nemmeno? Che cosa che Chegono 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 Siamo dicendo la salsa! In ogni modo, buona luck! Ehm... C'è? Non un secondo, qua dentro ci siamo mai venuti! Perchè serve questo posto? Benvenuti al mondo di domani! Ho il quarto perfetto per voi! Solo diciamo la parola e ti mostrerò! No, 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 non siamo qui per questo! Ehi, cosa? Questo è tutto? Si sembra come una macchina di vendita normale, certo? Ma aspettate! Sei pronti per questo? Sì? All right! Questo particolare modello ha... ...buttoni segreti! Di dove? Beh, non lo posso dire! È un segretario! Tu solo hai bisogno di tapare nella tua sapienza e esperienza! Tipo, prenderla e riparla! E poi potrai vedere tutto! Usa l'analisi per trovare il posto del segreto! Non ho bisogno di riparla! Ho ho ho! Look ati tu, bro! ... 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 Andiamo da Dogon Corneo, direttamente. Come sono i Final Fantasy? Il problema più grosso è che sono in inglese. E poi ci sono un miliardo, in tutti i Final Fantasy che ho giocato, ci sono un miliardo di scene di intermezzo. I combattimenti di questo Final Fantasy non mi convincono tanto. Quelli a turni invece sono belli, tipo Curia del 13, però se non ti piace il gioco di combattimento a turni non potrebbe piacervi. E poi i combattimenti a turni sono comunque difficili perché ci sono un bordello di abilità e cose che bisogna tenere in considerazione, che non si capiscono subito. Certo? E' solo buono per le donne, certo? Sì, per l'Arith. Chi? Oh, quella ragazza che hai fatto. Scusate di ascoltare. Oltre modo, sei staccato qui, ragazzi. Non posso farvi. Non ho chiesto per l'arizzo. Non ho chiesto per l'arizzo. Non ho provato se fossi tu. Credo, non vuoi fare con il Don. Se tu pensi che causare un problema, ci si farà sicuramente qualcuno pagare. E quella qualcuno potrebbe essere la ragazza che ti stai cercando di farlo. O che potrebbe essere la ragazza che ti non ho mai 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 metto. Entendete? Sei in mondo del Don. In ogni modo, hai ancora un po' tempo. L'audizione non comincerà per un po' tempo. Se sei sicuro che vuoi passare con questo, porti la ragazza e la lettera. Ma... Se io fossi tu, non sarei. Allora... E che dobbiamo fare ora? No, succede qualcosa. Perché noi ci eravamo andati? Dai, Ritt. Dai, parliamo! Moravate, moravate, moravate! C'è bene! Guarda, sembra si era decente. Si è versita decente. Oooooohhhhhhh! Yeahhhhhhhhh. Nob! 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 Ma'am? Ciao, Domenico. Per me? Oh, non ti preoccupi, non ero mai. Vieni, vedrai. Vedo cosa, esattamente? Secondo M., hai avuto l'occhio di un certo personale fabbuale. E che vorrei trovare in personale. Il piano di Ayrit? E da lì dobbiamo andare? Come fa a correre con quel vestito? E con quelle scarpe? Cosa, c'è un'occhio che si chiama Supergirls. Cosa, c'è un'occhio che si chiama Supergirls. Non è buona a tutto. Cosa? Dalla di nuovo. Non sei come un'occhio che si chiama la più bella bambina del mondo. E sono fortunato. Cosa, c'era già da vedere a Ayrit. Stiamo andando a dare uno schiaffettone a quello. Cosa? Cosa? Rimorchiatore. Ah, forse andiamo al dolce miele? Così, come si chiama? Questo qui non l'abbiamo mai visto in faccia. Cosa? 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 Ieri, il primo in mezzo. Cosa. Io. Il piano di Hyrit Non è una cosa buona Oh, guardate questo coso Entriamo in tutte le sale Calmante Ma questa è mica radizia No Ok, andiamo presto Non c'è niente Oh, madonna, già mi sono perso Allora, noi siamo entrati da qua dentro Quindi dobbiamo aprire quest'altra sala E quell'altra persona, ok? Oh, mamma, guarda che rocchettone viene Ma rocchettone, come si chiama? Non mi viene il termine Oh, guarda che rocchettone è il termine Oh ragazzi, non mi viene il termine Il retino si chiama, retino, retino Sali subito sul palco, vabbè Ma questo è un altro minigioco, forse Segui il ritmo, prendo A, B, X e Y al momento giusto in base alle indicazioni sullo schermo Se premi esattamente quando lascerai il ritmo, tocca il pannello e non sbagli neanche una volta, potrai ricevere un premio Ok Ah, ok Ah, questa è la prova Eh? Oh Non lo posso di fare, voglio il premio Si Ok, vediamo Ah 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 ma devo fare 10 ottimo ma devo spendere il premio vai ci dobbiamo provare a riuscire non ha detto perfection ma non possiamo uscire ma non è manco tanto difficile non sono sbagliato ultima volta ragazzi ci dobbiamo riuscire tu hai un ritmo real mister move over girls un nuovo dancer viene a casa ok take it away honey chees chees perfeccion work it honey chees perfeccion work it honey perfeccion work it honey oh mamma mia che c'ho voluto oh mamma mia che c'ho voluto hai un ritmo real mister move over girls un nuovo dancer viene a casa ok basta così come on come on the show is about to start quella però era una prova forse lo dobbiamo fare un'altra volta my my is that cloud darling non ho sì n government ossia na no no comunque le animazioni fanno paura non smetterò mai di dirlo non stand up and cast your fears aside stand up and bear your soul with pride stand up and cast your fears aside stand up and bear your soul with pride welcome to the honeybee inn, cloud you seek my approval, do you? I understand but those who crave my favor must first prove that they know how to move hopefully we have to fight against this hopefully we have to fight against this I think you can follow my lead let's go it's difficult woohoo! you're a star! let me kick that to the joke no! no! keep it up, cloud! work it! no! 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 estone no! 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 Questo show di oggi ha bloccato la mia mente! Ehi, guardami! Ah, ma usciamo noi! Ma dai! Oh, guarda la controlliamo Iris adesso! Ciao Claudino, cosa fai? Non parla più! Aerith a Cloud! Come in! Per favore, non! Non una parola! Non anche una? No! No! Ma sei così bello! Sì! Io ci darò qualcosa per poter sapere! Ok, abbiamo finito questa cosa! Adesso possiamo andare tutti quanti... Abbiamo ripreso anche il controllo di Cloud... Di Claudina, anzi qua! Oh, sei a fare un mazzurla, Fabio? Quasi finito, dai! Buonissimo, buonissimo! Ehm... Ragazzi! Andiamo da Don Corneo e vediamo che ci dice, però... Ma possiamo correre? Oh no! Questa non è la strada per Don Corneo! Questa è la strada per... Dobbiamo andare qua! Aerith, spostati! Guarda come corre! Guarda come corre! Guardala, guardala! Ma sei fidanzato! Guarda là! Stai iniziando a guardare altre miele! Ma faccio solo per compararle con te, so che avrei capito come buono lento che sono! Vedi, stavo parlando di pensare che sei un po' diными! Si sono gentili! E' una cosa fia! E' una cosa fia! E' un progetto! E' un progetto! Ma ora che succede? Certo che andiamo a dare un corneo? Perché ci sono sostanzialmente Aerith... Tifa è Nù e Cloud qua, Claudina! Vuoi dire che ci uscivi a noi? Riproviamo E poi vediamo se il tizio se ne accorge Ci dobbiamo dire per forza che siamo una sorella Se ne accorto Se ne accorto Se lo dico, vai No, no Andiamo a chiudere Ma dai, ma non c'è nemmeno una cassa qua Quella le musiche sono fatte bene Aspetta, andiamo a curiosare in giro Ma ti fatti due E quindi siamo qua Andréa, ragazza? Io lascio fare cose con me Vai a tua stessa e aspettate Sì, tranquillamente La stessa è alla fine Continua andando Questa è la fine 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 Non ce l'hanno sgamato, questa la proprio la fanno tutti quanti. Probabilmente. Guarda, non ce l'ho riconosciuto. Ah, grazie. Cutta la chattura. Siamo riusciti. Right now. No, non fino a che ho ricevuto. Cosa? Quindi, dopo che ci siamo tornati al slum, alcuni ragazzi venivano chiedendo tutte le tue domande. Quindi ho fatto un pochettamento. E ho capito che erano i corneo. Certo. Ci erano interessati in avalanche. Ma non ho capito perché. Ma non ho capito. Quindi ho pensato che venivano e chiedere lui. Certo? Pensavo se potessi trovare un pochettamento e trovare qualcuno. Ma poi ho capito, che io sarei solo uno di tre candidati. E se non mi chiede, ci sarebbe tutto per nulla. Quindi i risultati sono finito, non? Perché i due altri candidati sono qui. Certo? Certo. Quindi sì. Certo. Se ci siamo tutti insieme, poi non si può fare nulla. Ah, credo non. Cosa? 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 Non lo so, Aerith. Cosa? 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 ce la dobbiamo comprare per forza compriamo c'è altre mega pozioni qua niente niente e niente un quanto è bello se non lo so allora dobbiamo fare sicuramente espansione delle armi perché tifa non l'abbiamo mai più espanse le armi di tifa 6 6 durata gli effetti benefici alloggiamento per materie credo che e non ne possiamo mettere più però abbiamo sbagliato dovevamo mettere due qua e non nel secondo cerchio ok e questo l'abbiamo messo a posto però tifa adesso è completamente sbagliato tutto qua estensiva allora guardate qua se qua mettiamo guarda 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 ma dire che mi permette di usare chakra per recuperare dei punti viti in proporzione a curi persi e curare le alterazioni di veleno ma questo qua non lo usiamo per adesso però mettiamo mettiamo estensiva l'effetto può sembra significa che ogni volta che tifa lancia glaciale dovrebbe andare molti bersaglio ma vuoi dire aspetta un attimo e mettiamo qua energia l'energia l'energia dove sta sincrona magica non dobbiamo fare così aspetta dobbiamo fare estensiva sì invece di glaciale qua dobbiamo mettere curativa però no è energetica però sempre di airit così possiamo curare a tutti quanti con un solo colpo forse e questo qua come ne facciamo a sfruttare vuole sempre un coso blu elementare questo c'è la cloud sincrona magia questo non ha mai funzionato perché non ha effetto 6 pm o carica atb sono insufficiente questa auto soccorritrice è una sola ok allora facciamo così mettiamo sincrona magia questa qui materia che permette di attaccare con la materia associata il bersaglio colpito dal leader senza consumare atb e pm quindi se questo qua c'è l'energetica qua ci dobbiamo mettere gelo che glaciali che sempre ce l'avevamo glaciali 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 eccola qua ok questo qua siamo a post questo è airit invece per tifa dobbiamo energetica lo dobbiamo mettere tutti quanti sicuramente mettiamo aerea mettiamo punti di roba blu ce l'abbiamo non ce ne abbiamo più teniamo glaciali energetica e l'acqua qua non possiamo mettere niente scusso mettiamo ardente glaciali ardente e mettiamo pure quell'altra lago come si chiama galvanica galvanica ok più o meno siamo a post per adesso ok ragazzi facciamo una cosa che è successo fra poco inizia il provino ragazzi noi ci fermiamo qui con questa puntata noi ci vediamo domani e continuiamo let's play di Final Fantasy 7 remake ciao ciao